Grazie a tutti Allora, se vogliono venire a assaggiare un po' di gelato vero, prego, se volete venire, chi vuole assaggiare il gelato facciamo sentire il gelato visto che, prego, prego, accumulateli pure, potete rompere il gelato. L'assaggi prima lei, no? No, è questa. Scusa. Presidente, prego, 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 prego. Presidente da questa parte. Chi vuole sentire il gelato? Grazie mille. Presidente, un secondo. Bene, abbiamo fatto la parte del gelato, potete andare, non lo mangiamo, ci facciamo conferenza stampa se volete venire. Vai. Ogni giù. Jaletti, giàte, la parte del gelato. Grazie per la parte del gelato.